Musica Musica Le conclusioni le fate voi, tra l'altro io sono figlio di un idraulico e questo è un omaggio alla mia storia anche personale, quando è che siamo partiti Gigi ormai due anni fa con l'idea di questo progetto, perché uno dice ma perché l'Assemblea Legislativa si occupa di arte partecipativa, intanto perché penso che la partecipazione sia la chiave nuova con cui noi proviamo a rideclinare, a riattualizzare concetti che in questa regione ne rappresentano l'ossatura, la mutualità, la coesione, lo stare assieme, oggi non è solo più un tema di forma giuridica, di impresa o di funzionamento, di relazioni tra soggetti, ma passa anche dalla capacità di sapersi riraccontare insieme e a me fa molto piacere che finalmente questo lavoro inizia, prende forma, Pablo Elguera dà lustro a questo progetto e devo dire ha vinto un percorso che ha visto protagonisti importantissimi artisti di livello internazionale, io ho rappresentazione di Melcin quella sera, oggi vedo il lavoro di Pablo, tenete presente che nel mondo davvero questa forma di costruire e di creare insieme sta prendendo forma, tante esperienze negli Stati Uniti, ma anche in paesi europei. Vedete io appena ho eletto Presidente del Consiglio regionale, eravamo nel mese di giugno-luglio, io non ho un rapporto strettissimo con la città di Bologna e quindi mi sono preso una sera da solo in cui camminavo, ero in Piazza Verdi, questa zona di studenti e mi sono fermato a bere qualcosa, non so chi fosse la persona che era al tavolo con me, ma sostanzialmente ha cominciato lui a sottopormi un po' delle sue riflessioni, dicendo mi vedi Bologna, Bologna deve tornare grande, io gli dico ma cosa vuol dire tornare grande? Ma sai, te sei un giovanotto adesso non so se un po', ovviamente non mi ha riconosciuto perché chi se lo fia il Presidente del Consiglio regionale, a Milano si faceva, a Roma si parlava e a Bologna si pensava e con questa immagine questo signore mi restituisce, Milano è la capitale degli affari, del business, si faceva, a Roma è la capitale della politica, si parlava e qui si pensava, la gente cantava, suonava, scriveva, si raccontava, a me l'idea che ripartiamo a fare insieme e a fare nella direzione di un racconto della città, fatto tra l'altro dai più giovani, devo dire che molto spesso ci si riempie la bocca di nuove generazioni, a me solo fatto che siano stati in piedi e che questo progetto varrà protagonisti loro, vale più di mille comizi, quindi mi fermo qui, però davvero penso che mi fa molto piacere che Matteo Lepore non solo sia qui, perché io ho anche un po' insistito, ci tenevo, perché in questi mesi il Comune ha supportato in maniera importante questo nostro progetto, ha messo a disposizione non solo gli uffici, il lavoro, le autorizzazioni necessarie banalmente e tutto quello che occorreva, ma perché Matteo Lepore ritiene questo progetto un contributo ad un percorso molto più ampio che lui ha tratteggiato, che è quello di un rilancio vero, profondo, autentico di Bologna, dei suoi simboli, delle sue grandissime qualità che non sono solo quelle che giustamente lui ricordava e poi che in ogni piccolo dettaglio ci sia un po' il paese e la comunità che immaginiamo, anche nel dettaglio di utilizzare cose che verranno tutte riutilizzate, perché mi spiegava Giulia che l'impresa si è impegnata, ovviamente adesso non sono utilizzate tecnicamente queste braghe, io esperto, e verranno riutilizzate e di questo non rimarrà nessun, nulla da smaltire, ma rimarranno i pensieri, le parole, le azioni e la capacità appunto di raccontare Bologna insieme. Il fatto che tra l'altro questo avvenga con tre network che lavorano insieme, con un broadcast che si aggiunge, insomma io ci credo profondamente nell'idea che c'è una rappresentazione di noi che non si appende ad un muro, che non si mette in una sala, ma che rimane con una presenza forse ancora più impattante nelle nostre comunità, questa è la sfida che ci lancia Pablo Elguera, che noi abbiamo cercato con forza con questo premio e io spero davvero che questo possa essere un contributo a quella Bologna che Matteo ci immaginava prima, l'impegno di questa amministrazione, ma che possa anche rappresentare ovviamente un contributo alla società regionale nel suo insieme, l'abbiamo fatto perché questo possa in un qualche modo riattualizzare questa idea di partecipazione molto sentita, molto diffusa dei cittadini che sta emergendo, non vi tedio rispetto a non solo al nostro percorso legislativo, tutte le forme di rappresentanza che stanno nascendo, ecco c'è un modo per partecipare alla vita della nostra comunità, che non è solo l'organizzazione del lavoro, della politica, delle associazioni dei partiti, ma anche un partecipare alla sua vita, nella sua essenza e nella sua sostanza, per cui davvero ancora grazie, ovviamente spazio a chi vuole chiedere direttamente a Pablo di questo progetto, ma grazie anche a voi della vostra attenzione, ai collaboratori sono tanti che ci hanno speso tempo, passione e energia perché tutto questo è possibile davvero solo, grazie al vostro lavoro, grazie. Grazie a tutti.